Roma, Mourinho non porta a Bologna e Rui Patricio, il motivo video. Roma la Roma è pronta alla trasferta di Bologna, la squadra questo pomeriggio alle 17 ha preso un volo da Fiumicino ma senza alcuni giocatori della prima squadra. Non convocati di Bala, Rui Patricio, ma anche quei giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Quindi Smalling, Lorente, Karsdorp e del Shahrawi. Il motivo? La trasferta europea. Mourinho ha deciso di lasciare a casa la Joia e il portiere per farli recuperare le energie. Presente invece Gini Wijnaldum che a Bologna potrà giocare uno spezzone di gara per migliorare la condizione. Con la prima squadra presenti anche vari giovani della primavera, del bello. Missuri, Faticanti, Falasca, Keramizis e Mike Rczak. Alcuni di questi entreranno nella staffetta studiata da Mourinho per far risparmiare le forze e i big che affronteranno giovedì il Bayern Leverkusen. Virgola.